E' questo, immortalato nel video finito agli atti della procura di Pistoia, il momento esatto in cui la festa per il matrimonio di due giovani si è trasformata in una tragedia. Pochi secondi che raccontano quanto avvenuto la sera di sabato 13 gennaio nella sala al primo piano dell'ex convento di Giaccherino a Pistoia. Musica a giovani che ballano e all'improvviso la voragine che si apre sotto i loro piedi. Alla fine saranno 30 le persone ferite, compresi due sposi. Per fortuna nessuno di loro in pericolo di vita, anche se qualcuno ha riportato lesioni gravi. Il video di circa 15 secondi è stato consegnato agli inquirenti che indagano per disastro colposo e lesioni dagli avvocati Federico Bagattini e Alberto Corsinovi che assistono i due giovani sposi. Agli atti dell'inchiesta c'è già tutta la documentazione relativa all'ex convento costruito nel 400 e recentemente trasformato in location per matrimoni ed eventi privati.